Correre! Adesso butto giù quell'elicottero! Come? Con cosa? Non lo so! Mi inventerò qualcosa sul momento! Chris cerca di abbattere l'elicottero! Non gli sta andando bene, eh? Facciamo vedere come si fa! Beh, ho degli esplosivi che potrebbero funzionare! Jake! No! Mi farai ammazzare! Lo sai come si dice! A mali estremi, guarda e para! Ciao! 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 Più! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Forza, andiamo. Abbiamo ordine di evitare qualsiasi contatto. Lui sa che Wesker era mio padre? Non credo. Perché? Niente. Forse gli sto semplicemente antipatico.